Buongiorno a tutti, siamo alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, questa è l'edizione 2019, siamo nell'area Ruminanzia e al decimo workshop di questa maratona fieristica che abbiamo fatto fino adesso e come abbiamo detto anche negli altri workshop ringrazio voi che siete fisicamente presenti, quindi la parte analogica di questi workshop ma anche saluto e ringrazio chi è connesso con noi con Facebook che abbiamo visto è un pubblico enormemente più numeroso di quanti fisicamente sono poi alla fine riusciti a venire qui. Ricordo anche se ormai è superfluo perché siamo al sabato che tutti i workshop che abbiamo finora fatto abbiamo cercato di dare un filo conduttore anche se abbiamo parlato di cose anche strane o diverse, siamo passati dalla medicina orientale cinese all'etica dell'allevamento eccetera eccetera. Ma qual è il filo conduttore? Ci siamo posti un problema ma esiste una compatibilità tra l'etica delle produzioni o meglio la sostenibilità per certi aspetti e le performance? Noi siamo su un animale da reddito quindi la prima motivazione per cui si allevano questi animali a parte la passione è ovviamente quello di generare un profitto e un reddito. Però d'altra canta il consumatore o meglio la nostra coscienza civile ci sta chiedendo di un po' rivedere alcuni paradigmi che hanno in qualche modo gestito finora il sistema di allevare le bovine da latte perché siamo in questo ambito delle bovine da latte per cui abbiamo cercato di affrontare temi sia da un punto teorico ma anche da un punto di vista pratico. L'industria o meglio alcune industrie da tempi più o meno lunghi stanno cercando anche di in qualche modo dare delle risposte concrete a questo che possono in qualche modo contribuire a modificare alcuni aspetti che hanno in qualche modo condizionato la produzione dell'arte. In che senso? Cioè l'industria ovviamente è mossa da una condivisibile necessità di generare profitti ma ormai molte industrie nel mondo forse più all'estero che in Italia stanno in qualche modo contestualizzando in questo gigantesco filo comune della Green New Deal quella che è la loro offerta in termini di prodotti e in termini anche di processi. Perché questo contesto diciamo è attraente nei confronti dei consumatori che vogliono praticamente contribuire a rendere più sostenibile la presenza dell'uomo su questo pianeta. Per cui questi temi come abbiamo detto anche ieri fino a due o tre anni fa non sarebbero stati adatti per questo contesto dove prevalentemente la missione di questa di questa exhibition era la performance, la performance morfologica, la performance produttiva. Però abbiamo visto noi di Ruminanzia che affrontare questi argomenti non sono alieni a quello che è il sentire anche dell'allevatore oltre che il sentire collettivo del consumatore. E arriviamo al dunque. Abbiamo SOP, questa azienda, è uno sponsor di Ruminanzia. Però ci ha incuriosito il significato di SOP. Perché poi alla fine SOP è salva il nostro pianeta. E da quanto mi è stato appunto riferito dal management di SOP, questo acronimo non è stato fondato per seguire un po' l'onda, ma sono qualche anno, poi ce lo racconteranno più dettagliatamente, che SOP è l'agrominimo di salva il nostro pianeta. Per cui in tempi non sospetti questa azienda ha cominciato a cimentarsi su aspetti legati alla sostenibilità delle produzioni. Siamo anche consci che dietro a una, dietro a ciò, esiste quell'altro brutto fenomeno che sta emergendo del greenwashing. Perché molte aziende diciamo stanno utilizzando questi temi della sostenibilità per cavalcare anche delle cose che non stanno poi in piedi. Noi lo vediamo internet e lo vediamo anche con questi convegni. Ha agevolato molte cose della nostra vita, però ha creato le fake news. Ogni cosa ha l'effetto collaterale o la cosa negativa. Per cui, e adesso do la parola a SOP, il cui intervento, il loro intervento è sostenibilità in campo e in stalla. Binomio è scindibile per il successo. Cercheremo di capire con loro innanzitutto questa cosa. Poi io sarò molto provocatorio per dire, è un desiderata? State parlando di un argomento così? O effettivamente voi offrite delle soluzioni nella gestione dell'allevamento inteso come binomio ovviamente azienda agricola e allevamento perché la vacca da latte non può prescindere dall'azienda agricola che siano concrete e misurabili? E poi cercheremo anche di arrivare fino in fondo con ulteriori riflessioni. Grazie. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti. Chi siamo un po' l'ha detto Alessandro, è tutto in quell'acronimo che paradossalmente oggi è di grandissima attualità ma è stato creato è stato creato 18 anni fa. Save our planet. Dove siamo? Siamo presenti in 17 paesi. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di bioigienizzazione e di una cosa che oggi è anche di gran moda quindi di bioresilienza quindi di stimolo alla capacità che l'animale ha in natura di ristabilire il suo equilibrio con le componenti che sono intorno a lui, di valorizzazione dei liquami e di valorizzazione della componente agronomica dell'azienda in senso lato. Se voi vedete nel titolo e ci vedete anche dal vivo siamo in due e non è per farci compagnia anche se ci vogliamo bene ma è perché rispecchia proprio il nostro modo di vedere la zootecnia e l'agricoltura come un binomio. Molto spesso in questi anni l'allevatore è stato subissato da visite, da incontri in cui si è parlato moltissimo delle vacche, di cosa poteva essere più utile per le vacche, io e Alessandro condividiamo una passione e un mestiere e di come qualcosa in più di proteine o in meno di fibra facesse cambiare l'azienda. Penso che anche lui sia arrivato alla convinzione, ne parliamo come questa cosa non faccia cambiare l'azienda. Il reddito di un'azienda viene assolutamente dalla compartecipazione, dal buon funzionamento della parte dei campi e della parte della stalla. Se noi non abbiamo chiaro questo la redditività dell'allevatore non potrà mai svilupparsi in avanti, anche se poi nella nostra quotidianità vediamo che spesso c'è il fratello che si occupa della stalla e il fratello che si occupa della campagna, ma il momento di sintesi è determinante. Questo sul campo, però SOP si è posta da subito, non da ora, una domanda a cui ha dato velocemente una risposta. Il campo è determinante, ma è determinante anche con chi noi facciamo questo percorso e SOP in questi anni ha fatto un percorso con molti organismi universitari e molte istituzioni collegate. Nell'ultimo anno in particolare ci torneremo dopo, anzi 20 giorni fa c'è stata una pubblicazione fatta con l'Università di Milano dove vengono forniti dei numeri. I numeri sono un argomento veramente su cui si discute sempre, ma sappiamo tutti che i numeri che ci vengono imputati molto spesso sono difformi. Quanto inquiniamo? Quanto è colpa delle vacche? Quanto è colpa della campagna? Io facendo una cosa non proprio rituale vi dico già qual è l'obiettivo. L'obiettivo è che l'allevatore non sia il responsabile del problema, ma che l'obiettivo è che l'allevatore dia una mano e anzi sia il promotore della soluzione al problema. Oggi ci sono delle conoscenze, delle aziende che si stanno muovendo in questo senso per dare all'allevatore la possibilità di dire io non solo credo in quello che faccio, ma ho la possibilità tecnologica di ridurre le mie emissioni e quindi di parlare concretamente di sostenibilità. Due parole veloci sulla sostenibilità. Anche questa è una parola abbussatissima, io mi permetto di dire anche un po' violentata oramai, ma la sostenibilità ancora in termini di misurazione ha da fare molti passi avanti perché se oggi un allevatore dice io sono sostenibile mi dovrebbe dire secondo quali criteri, quali misure, quali riscontri oggettivi. quindi l'obiettivo è chiaro, la sostenibilità ma dando delle indicazioni di cosa facciamo domattina per andare in quella direzione. Abbiamo detto i campi di cui si occupa SOF che sono la bioigienizzazione delle stalle, la bioresilienza sugli animali, la valorizzazione dei liquami in campo, la miglioramento del valore agronomico del terreno. Vedete in questa non è una presentazione rituale, noi abbiamo aderito alla provocazione di Alessandro quindi è più un dialogo con tutte le connessioni che questo può avere. Se voi guardate qui, poi passo la parola a Roberto, c'è un'economia circolare, un'economia circolare molto chiara che è quella che avevano già i nostri nonni, non è una cosa totalmente nuova, no? In alto ci sono i campi che emettono qualcosa in rosso, emettono ammoniaca, nitrati, poi ne parleremo di queste cose, ma mi sembra giusto dare subito, sempre in termini di provocazione, un dato che non è mio, Alessandro piacciono i numeri, un dato che non è mio, l'ammoniaca provoca in Europa 400.000 morti l'anno. Noi non siamo i responsabili, possiamo essere coloro che guidano tutti insieme, ognuno con la sua parte, con la sua piccola parte, la riduzione dell'ammoniaca. Noi sappiamo quanto l'ammoniaca crea i problemi in stalla, lo vediamo tutti i giorni, anche nelle vitellaie o presso le vacche, ma lo vediamo anche in senso generale. L'altra parte, sulla parte destra, ci sono i nostri amati animali, dove in input ci sono i mangimi, gli integratori e i farmaci, qui non apro la finestra sui farmaci, ma è chiaro a tutti voi cosa sta succedendo negli ultimi mesi, la direzione è tracciata, la riduzione dei farmaci è sicura, ha una componente etica fortissima, ha anche una componente economica fortissima. Noi dobbiamo puntare a avere animali che stiano meglio per poter e dover utilizzare meno farmaci, ma questi animali, oltre alle loro emissioni per cui siamo sempre crucifissi, con dati anche abbastanza controversi, da questi animali poi si crea il liquame, anche lì finestra enorme, problemi enormi. L'assessore alla regione Lombardia, che rappresenta buona parte del patrimonio zootecnico dell'Italia, ogni volta che interviene in un convegno, anche negli ultimi mesi, dice che le sue due priorità sono la riduzione della concimazione chimica e la riduzione delle emissioni. Se ci pensiamo bene sono anche le nostre priorità e non dobbiamo vederle con un aspetto sanzionatorio, che speriamo non venga mai, anche se forse l'aspetto sanzionatorio a torto accelererebbe tutto questo processo. Però alla fine anche qui abbiamo tutta la componente della sostenibilità, anche sociale. Io non dirò l'albergo dove soggiornavo stanotte, per ovvi motivi per non essere citato, noi abbiamo cambiato albergo rispetto all'anno scorso e gli ho fatto i complimenti a chi ha scelto l'albergo, ho detto, meraviglioso, non c'è la puzza dei maiali la sera. Ieri sera, la seconda sera, come siamo usciti dalle camere, una tragedia. Albergo bellissimo, prima o poi, qualche vicino, creerà il problema come è giusto che sia. La cosa paradossale è che soluzioni cominciano a esistere. Perché dobbiamo arrivare al contenzioso? Perché dobbiamo arrivare alla sanzione? Starebbero tutti meglio il proprietario dell'allevamento, il proprietario dell'albergo e noi che ci viviamo. Io passo ora la parola... è vero, c'è un piccolo dettaglio, volevo vedere se si accorgeva il mio amico, c'è un piccolo output che sarebbe il latte, che non è un dettaglio, che non è un dettaglio, ma vedete quanto c'è intorno e quanto poi alla fine sia tendenzialmente piccolo, o come un collo di bottiglia. Alla fine tutto converge lì e lo dobbiamo fare rispettando non in senso generico ambientalista, nel senso deteriore della parola, permettetemi, ma per il nostro benessere, il benessere degli animali, dobbiamo fare in modo che queste emissioni si riducano per produrre più efficienza nei campi e negli animali. Significherà più latte e probabilmente non solo più redditività in senso lato, ma anche, perché no, un latte che in alcuni casi possa essere retribuito per unità di prodotto in modo diverso. Io non so quanto tempo ci sarà fino allora, so che arriverà, spero di esserci ovviamente, insieme a voi per vederlo. Cominciamo dalla parte della campagna, perché secondo me in un'economia circolare si parte sempre dalla campagna. Passo la parola a Roberto. Allora vorrei ringraziare il caro amico che per anzianità e forse per intelligenza mi supera, perché ha già individuato quello che è il problema di fondo, è che normalmente noi parliamo di ambiti separati. In realtà forse, dal punto di vista filosofico, la cosa più importante che è successa negli ultimi anni è il concetto di rete. Non siamo soli, ogni nostro movimento muove qualcosa. E diventa evidente, diventa evidente quando noi parliamo del processo più antico, il processo agricolo. Se vogliamo andare proprio indietro nel tempo, non c'è mai stata agricoltura senza le vacche e i liquami. Gli uomini hanno potuto fermarsi quando si sono accorti che le defecazioni delle muche aumentavano la fertilità del terreno, per cui non dovevano più essere nomadi. Quindi è molto semplice, è un processo antico che in sé ha avuto fino a pochissimi anni fa, fino alla vita di mio nonno, mio nonno del 1998, quindi era buonanima. Quindi non stiamo parlando di un passato, di qualcosa che è raggiungibile, stiamo muovendoci verso una sostenibilità come se fosse una cosa senza fine. Abbiamo degli esempi, io nel mio sangue, nella mia storia, ho visto cos'era la sostenibilità nell'azienda di mio nonno. E ovviamente oggi un desiderio è quello di riuscire a trasformare queste basi profonde, che è una base etica poi, in qualcosa di realizzabile in mezzo a questo ambarandà di economie, di marketing, di mille cose. E forse considerare il processo come un processo circolare, un processo naturale, un processo che è sempre funzionato, di cui noi abbiamo toccato alcuni aspetti, che come li abbiamo toccati possiamo ritoccarli e renderli migliori, è l'approccio che ci è sempre piaciuto, che abbiamo sempre fatto, è un approccio che dire olistico sembra quasi un po' fichettone, dire integrale è molto più serio. E da dove è sempre partito tutto? Dalla terra. Quindi efficacia in campo. Ecco, qui, allora, sebbene ci sia la passione per i numeri, io sinceramente penso che l'occhio vuole la sua parte. Nel senso che ho sempre avuto una passione personale del vedere come le cose morfologicamente, nel terreno e nelle piante, si trasformino. Perché quelle sono certezze, non sono numeri. I numeri sono misure. Ciò che vedi è certo. Mi ho fatto l'esempio allora di un paio di fotografie. La prima è più in alto. Non ci sono storie. Lo stesso terreno, lo stesso luogo, lo stesso giorno, la stessa pianta. Però anche in una fotografia magari spoccata, magari piccina, non mi lascia adito a dubbi. Quindi so che qualcosa sta succedendo. Più sotto, più sotto, vedete la differenza a livello di radici. Allora, perché parliamo di radici? Perché se parliamo di terra, parliamo di quello che è il rapporto più antico tra la parte vitale, la nostra vita parte dalla terra. Non è una banalità ecologistica, è una realtà. E se la terra funziona, funziona tutto. La terra però ha il piccolo problema che non produce zucchero. Noi siamo fatti di carbonio, ma la nostra benzina è lo zucchero. Chi è che produce la benzina della terra? La producono i vegetali? Sono i vegetali che fanno vivere la terra, che sviluppano la terra. Altrimenti la terra è solo un aggregato di materia disgregata. Sembra un acronimo. Allora, cosa succede? Quando il terreno comincia ad essere vivo, lo vediamo anche immediatamente nella pianta. E questo è stato l'obiettivo primo che abbiamo ricercato. Come possiamo fare in modo che la pianta e il terreno non si è più a vivere? E questo cosa porta? Questo porta facilmente a molti aspetti positivi, che partono sempre da una maggiore attività dei microrganismi del terreno. Allora, quando parliamo di microrganismi del terreno, qualcuno pensa che siano cosine piccoline. Cioè parliamo di 15 tonnellate per ettaro. 15, comprende tutti la parte vitale, 15 tonnellate per ettaro. Sono 20 vacche. Diciamo che se uno comincia a pensare a questo, comincia a pensare che stiamo lavorando non su qualcosa di piccolo, ma su qualcosa di fondamentale, e si vede. Cosa riusciamo a fare? Allora, se noi lavoriamo su questa parte, potenziandola, si vede innanzitutto sulle radici. Perché? Perché le radici sentono subito dove c'è il cibo. Sono abituate da migliaia, milioni, miliardi di anni a sentirlo. E quindi se sono più vive, vuol dire che lì esiste qualcosa di più vivo. E sono i microrganismi del terreno che sono capaci di assorbire l'unica fonte naturale di azoto, che è l'aria. Ok? L'unica, la migliore. Lavoriamo la terra per far passare l'aria e l'acqua. Quindi, possiamo avere, lavorando su quell'uovo, lavorando con la vita della terra, una resa migliore, ma semplicemente perché mio nonno diceva l'uovo viene dal becco. Cioè, se c'è più disponibilità, se c'è questo, come dire, collegamento virtuoso tra la produzione di zucchero e la restituzione dell'azoto, la cosa funziona molto bene, ovviamente. E quindi si hanno maggiore qualità, maggiore resa, magari in un percentuale altissime, ma esiste. Se ha una riduzione, allora, se ha una riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici, allora è necessario chiarire. Il mais richiede 300-350 unità di azoto per etero. Questo sarà sempre. Ma la capacità di assorbire, la superficie di assorbimento, la capacità della pianta di assorbire azoto è molto variabile. Se io aumento questa, posso ridurre la quantità che immetto nel terreno, lasciando indisturbata la quantità di cui ne ha bisogno. Quindi è questa la vera riduzione dell'uso di fertilizzanti. E questo è un aspetto economico importante, perché è immediato, è visibile, è quantificabile, però c'è tutto anche un aspetto che riguarda le emissioni. Cioè, stiamo parlando fertilizzanti, se vogliamo, chimici, ma parliamo anche degli altri fertilizzanti che dopo sarà l'aspetto interessante che apriremo con i liquami. Emissioni di ammoniaca, emissioni di perossido, emissioni di mille altre emissioni. Che ovviamente si sta cercando di lavorare moltissimo, ma se il terreno stesso per la sua conformazione, per il suo trattamento è capace già di fare molto, questo ci semplifica la vita e ci consente di fare grossi lavori. Vi dico un giochino che dico a tanti. Io mi sono laureato trent'anni fa, si parlava del monovomere alto che andava in fondo a un metro, poi si è parlato del bivomere, poi del trivomere, poi del nesavomere, e adesso si è arrivati a senza vomere. Cioè, se sono riusciti a capirlo loro che producono macchine, che più lo lasci stare il terreno, meglio funziona, perché non dovremmo capirlo noi? Mi sembra quasi logico, no? Questo non è fine alla produzione, perché un concetto che porto avanti, magari è molto banale, ma mi è utile personalmente per capire, è che molti pensano che il capitale sia ciò che esce dalla terra. È un concetto sbagliato, il capitale è la terra, ciò che esce dalla terra è l'interesse. Se io porto via ogni anno più interesse di quello che il capitale produce, anche un bambino capisce che il capitale va giù. Quindi il mio obiettivo è aumentare il capitale perché genere maggiore interesse e questo lo posso fare in un modo, se volete, estremamente semplice, sostanza organica nel terreno. Come faccio? Mille modi, ma un punto percentuale di aumento di sostanza organica nel terreno comporta 250.000 litri trattenuti nel terreno ogni pioggia per ettari. È una quantità enorme, è una quantità enorme e ci risolverebbe, potrebbe aiutarci a risolvere quella che è la transizione a cui stiamo assistendo dal punto di vista del cambiamento ambientale che è volgarmente detta tropicalizzazione, cioè pioggia secco, pioggia secco con dei tempi tra uno e l'altro molto elevati e se la terra, se la pianta, se il sistema naturale è capace di auto regolarsi e di arrivare anzi direi di più automigliorarsi. Pensi, un tempo i nonni lasciavano la terra stare perché tornasse la fertilità, quindi la terra sa come fare, noi possiamo aiutarla però lei sa come fare. Quindi aiutare questo processo è sicuramente una fonte di salute ma anche economica e non poca cosa perché tanti di problemi sulla pianura scolante, sulla nostra storia del Po e di tutti i fiumi che finiscono a Venezia, la riduzione dell'isciviazione ai nitrati non è una piccola cosa, è una cosa che entra nel nostro piatto, entra nel nostro bicchiere, entra nella nostra vita quotidiana. Quindi riuscire anche solo a fare questo, in cui la terra è filtro, è una gran cosa. e vi faccio vedere solo la conferma che uno sviluppo radicale ha un significato e che questa cosa non è solo riservata, ovviamente di nuovo l'uovo viene dal becco, trattate bene il terreno, trattate bene che può sviluppare tutte le sue capacità genetiche al meglio. Questa invece è una storia vera, è una storia di un'azienda che seguiamo da dieci anni che ovviamente con il solo uso dei liquami zootecnici prodotti in azienda ha abbattuto anno dopo anno la quantità di concimi chimici fino a zero. Ovviamente non si sono fidati e lo vedete, primo anno 25, secondo anno 50, terzo anno 75, quest'anno zero. Però sono arrivati, quindi possiamo dire che nella nostra storia abbiamo una storia vincente, abbiamo un episodio vincente. Mi spiace che oggi non ci sia perché ha un altro impegno, però sarebbe stato qui volentieri a raccontarci la sua storia. Passo la parola all'amico. L'ultima cosa che ha detto Roberto riferendosi all'azienda Serenissima e quel caso lì è una storia ed è una verità che troviamo spesso con le persone che da anni fanno queste cose. Il tempo necessario per vedere i risultati è un fattore chiave però il crederci in queste attività continue porta a quel filo conduttore che oggi è indicato in maniera chiara. Come diceva Alessandro prima, fino a qualche anno fa, pochissimi anni fa, fare certi discorsi ci avrebbero preso a pomodori e qualcuno potrebbe farlo anche oggi, non è vietato. però chi ha cominciato a farli da qualche tempo e in sala qualcuno di queste persone c'è credendoci con grosso sacrificio essenzialmente da parte sua a volte di andare a monitorare i risultati perché il monitoraggio dei risultati sia in stalla che in campo agronomico non è un argomento semplice. Io ricordo benissimo un articolo di Alessandro di qualche mese fa forse un anno fa in cui diceva esistono dati e dati ma che vuol dire? Cioè noi siamo in un certo senso schiavi dei numeri e pensiamo che un numero abbia una sua realtà incontestabile ce l'ha però bisogna vedere qual è il criterio con cui è stato raccolto in sala non lo coinvolgo per ora c'è presente una delle persone che di più segue il monitoraggio dei risultati in campo e vi assicuro che è un compito molto complicato perché non sempre gli stessi dati possono essere utilizzati e confrontabili non a caso Roberto ha detto questo è un episodio vincente dove noi abbiamo potuto monitorare con successo è un po' un appello prima della mia è un po' un appello alla collaborazione che in alcuni casi abbiamo totale da parte dell'allevatore nella raccolta dati in altri casi dobbiamo veramente fare tanta fatica arriviamo alla nostra vacca e vedete io ho fatto aggiungere rispetto ai cinque paragrafi che ci sono in fondo fra parentesi le università con cui si collabora non è un vezzo stiamo parlando dei massimi organismi mondiali che si occupano di questi problemi vi assicuro che per un'azienda privata dove c'è un imprenditore che investe in ricerca non è un argomento semplice noi speriamo che sempre più aziende private investano in ricerca oltre che nella raccolta dati sul campo se noi partiamo da quella che è stata la prima attività di SOP che è quella in basso a sinistra è quella del contrasto ai patogeni ambientali le comunicazioni in basso sono del National Mastillist Council per quattro anni consecutivi Alessandro sa bene e tanti di voi sanno bene che fare una comunicazione per quattro anni consecutivi comporta il rischio a volte di annoiare o comunque di non portare delle cose nuove il National Mastillist Council ci ha dato una porta aperta per quattro anni consecutivi come avviene questo contrasto ai batteri patogeni partiamo da quello che SOP ha imparato a fare prima subito dopo la fondazione di risale circa diciott'anni fa avviene inipendo di fatto quasi tante famiglie di batteri patogeni ambientali ripeto ambientali nessuno vi dirà mai che inibisce i batteri della mastite contagiosi nessuno di noi non ve lo dirà mai ma inibisce tutti quelli responsabili delle patologie dell'apparato mammario ambientali quando noi abbiamo cominciato questo lavoro la prevalenza delle mastiti era una prevalenza di tipo contagioso nel corso degli anni la prevalenza si è spostata verso una prevalenza di tipo ambientale per mille motivi dalla concentrazione alle produzioni mille motivi che non stiamo qui a toccare però l'aspetto ambientale inteso come batteri responsabili di mastiti di origine ambientale ha preso sempre più importanza l'azione di SOP determina una riduzione dell'attività di questi microrganismi tutti i microrganismi responsabili della produzione di humus in lettiera quindi di fatto determina un'asciugatura di qualunque superficie sia essa lettiera cucette o paddock questo anche grazie al fatto che da 4-5 da 5 anni è autorizzato l'impiego di SOP attraverso la bocca dell'animale cioè diventa da un punto di vista della somministrazione un componente della razione pur non avendo nessuna valenza di tipo nutrizionale ma di fatto la vacca si comporta come se fosse una pompa vivente a spalla e distribuisce con le sue feci il prodotto in tutta la stalla naturalmente con gli zoccoli determina un calpestamento e determina una maggiore diffusione c'è poi una riduzione delle emissioni di ammoniaca lo vedremo nel dettaglio ripeto l'ammoniaca secondo dati dell'Unione Europea giusti non giusti quelle delle Nazioni Unite sono un po' diversi determina è causata dal 90% dall'agricoltura l'ammoniaca determina anche i morti ma soprattutto determina cattivi ambienti in stalla un esempio classico è la vitellaia dove i vitelli subiscono maggiormente questo problema perché c'è un'irritazione a livello delle prime vie respiratorie tale che essendo una mucosa molto più delicata parlando di animali di pochi giorni l'insulto che porta molti patologi e oramai più del 40% delle morti entro 6 mesi sono dovute patologie polmonari buona parte di queste non sono conseguenti non voglio fare i veterinari non lo sono non sono conseguenti all'azione del batterio in sé ma a un indepolimento della mucosa respiratoria diventa più predabile quindi delle cucette che sono più asciutte un humus maggiore una riduzione degli odori quindi concretamente una sostenibilità ambientale maggiore riduzione degli odori sia per gli animali che ci vivono sia per le persone che ci lavorano diciamo questo fiore all'occhiello siccome è nato da c'è un bimbo nato da 15 giorni ci teniamo particolarmente è una pubblicazione fatta con l'università di Milano vedete in basso ed è di settembre 2019 è la prima volta con soddisfazione in Italia ci viene ci vengono forniti dei numeri che vediamo magari dopo di riduzioni concrete di ammoniaca e protossido di azoto fino al 100% e di metano e anidride carbonica tra il 20 e il 22% la storia del metano faccio solo un piccolo inciso con riferimento a quanto detto nel workshop di ieri ci stanno dicendo che le macchie sono responsabili di tutto il metano del mondo eccetera eccetera una piccola riflessione c'è una stima una stima nordamericana che dice che il numero dei ruminanti tra domestici e selvatici presenti oggi è lo stesso quasi di quando sbarcò Cristoforo Colombo allora di grazia o non ruttavano e non scorreggiavano scusate l'esperienza quando c'era Cristoforo Colombo o se sono lo stesso numero il problema del metano anche perché il metano dopo 12 anni si riconverte in una rigide carbonica quindi il problema del metano forse un attimino è stato sopravvalutato o ci sono quelle le fake news che girano senza accusare Facebook perché siamo su Facebook ma no Facebook tanto di cappello sempre però però il metano il metano è lo stesso di quasi come numero di animali tra i 400 anni fa quindi questo è un punto fondamentale che poi se noi riduciamo le emissioni di metano abbiamo una migliore assimilazione e conversione dei nutrienti questo è un dato osservazionale nel senso che come per Roberto negli esempi delle nostre stalle che ci danno il grosso aiuto di aiutarci appunto nella raccolta dati noi vediamo questo miglioramento dell'assimilazione e della conversione ma è un'osservazione appunto che deriva sicuramente da questo ma che è conseguente a questo quindi noi stiamo lavorando per dimostrare tutta la catena e un'altra università con cui lavoriamo è forse oggi una delle più prestigiose al mondo è brutto fare delle classifiche anche se esistono no ma l'università di Davis in California è sicuramente una delle prime tre al mondo per quanto riguarda questi argomenti con il suo guru che anzi vi invito a seguire su twitter che si chiama ha un nome impronunciabile però è il suo cognome Mitch Lerner poi ve lo dico come si scrive questo signore è quello che ha sbugiardato i vari report i vari report in tutto il mondo che davano tutta la colpa alle vacche ed ha un'attività su twitter enorme e presso Nazioni Unite eccetera eccetera la pubblicazione che abbiamo fatto a Milano è stata fatta da un team guidato dalla professoressa Guarino voglio dire solo una delle cariche è presidente dell'associazione europea allevamento di precisioni quindi è sicuramente mentalizzata verso uno spreco delle risorse i numeri abbiamo visto le riduzioni delle emissioni interiche i numeri li vediamo nella slide anche dopo andiamo avanti qui questo mi fermo un attimo purtroppo anche lui è in campagna in questo momento questa è un'azienda di 450 vacche in mungitura l'unica cosa che ci interessava far vedere qui non per parlare di produzioni eccetera eccetera perché ricordiamoci che le produzioni sono funzioni di un animale che sta meglio non esiste qualcosa che generi un aumento di produzione esiste un'attività un sistema che fa star meglio la campagna e la stalla se la campagna e la stalla vanno meglio l'animale produce più latte non c'è nessuna discussione su questo in questo caso abbiamo misurato la riduzione dei farmaci quando questo allevatore è passato da utilizzare il prodotto in verde che era il prodotto solo ambientale gold pro cow a utilizzare nel maggio giugno praticamente il prodotto che svolge sia l'azione di igienizzazione sia l'azione sugli animali di più resilienza quindi gli animali sono diventati più resistenti ma soprattutto dopo il problema ristabiliscono più velocemente la loro capacità produttiva poi magari dopo facciamo un aggancio su questo e c'è scusa Roberto un secondo soltanto c'è il 75% di farmaci in meno ora è evidente che c'è anche una stretta dei farmaci che tu qualunque grossista di farmaci sta osservando negli ultimi sei mesi però la riduzione dei farmaci è imponente imponente se voi andate a vedere da dove è partito quelle sono i percentuali di mastiti al mese erano 3,5% oggi viaggia a 0,5% quindi significa 450 vacche perché sei bravo con i numeri 9 vacche ok andiamo avanti questo è quello semplicemente che vi dicevo questa è una ricerca interna che è stata fatta quando è stato lanciato il prodotto con l'SVCN l'università di Milano anche con Maitletner dove le produzioni questa produzione in più è ripeto un dato osservazionale è una conseguenza di animali che stavano meglio e il contenuto di proteine e latte anche questo è un dato osservazionale vai avanti ma andiamo più nel dettaglio su quella che è l'ultimo nato la nostra pubblicazione ci teniamo particolarmente perché forse tanti immaginano alcuni no cosa c'è di tempo di impegno di lavoro per arrivare a pubblicare questa pubblicazione è visibile su un giornale che ha una visibilità internazionale nel campo che si chiama Sustainability molto importante è stata fatta con Milano e i numeri ve li spiega Roberto ve li ho accennati perché mi piaceva lanciarli io i numeri sono veramente imponenti passo grazie Giochino allora diciamoli qua a me è un problema ne parlavamo ieri che io ho sempre abborrito in cuor mio la parola spandimento spargimento perché venendo dalla campagna e venendo dalla coltivazione della terra mio nonno aveva grandissima cura in tutta la produzione di letame perché era il suo futuro il cibo per i suoi figli e il suo futuro economico io personalmente andavo a raccogliere anche quella delle galline perché servivano per far partire i primi pomodori nell'orto quindi per me il legame è molto molto stretto anche se volete dire è un po' come dire coprofago però capiamoci e vederlo buttare via vederlo considerato un problema vederlo completamente vi è stata tolta tutta la potenzialità tutta la capacità tutta l'economia è sempre stato una delle cose che non ho mai capito e ho sempre cercato di lavorare in questo senso però ovviamente cosa succede quando voi girate le stalle trovate sempre delle vasche piccolissime perché una volta io sono testimone facevo i tubi direttamente sul fosso o direttamente sul fiume quindi la cosa andava via velocemente poi hanno cominciato chi aveva anche ad avere delle vasche poi c'è stato un periodo che io l'individuo intorno agli anni 93 98 in cui c'è stata un'esplosione ovviamente legata alle leggi delle costruzioni di queste vasche e però le vasche servono solo per l'accumulazione e pian piano si è venuto fuori il problema delle croste croste enormi che creavano l'incapacità dei prodotti di quello che arrivava di ossidarsi allora sappiamo che l'etame e il liquame o il colaticcio chiamiamoli il nome tecnico sono densi pieni costituiti da batteri reattivi ok qualcuno buono qualcuno meno buono conosciamo tutti i problemi legati al coli e compagnie cantante però sappiamo che alla lunga il letame diventa una cosa meravigliosa che tutti cercano per le proprie produzioni perché non riusciamo a fare questo anche nei liquami che oggi sembrano essere la quantità e come quantità e come tipologia la questione era uguale quindi abbiamo lavorato direttamente sui microrganismi che abitano questi luoghi e cercando di renderli più di aumentare la capacità naturale di diventare utili per la terra il letame è capace da solo se lasciato a diventare utile per la terra noi abbiamo costruito un sistema per cui non è più utile quindi dobbiamo disinnescare questa questione e arrivare a fare in modo che torni utile ci siamo riusciti prima cosa che è successo il liquame produce processi che liberano N2 azoto libero fa bollicine le bollicine fanno girare il liquame non si formano strati non si forma crosta accade costantemente un lavoro di ossidazione per cui la questione è le croste non ci sono allora tenete presente che questo vuol dire che la superficie di rapporto tra l'aria e l'ossidazione dell'aria è lì qua ma è continua e in più per chi lavora sui campi per chi deve portare fuori avere la crosta è un problema non di poco perché bisogna bucarla bisogna toglierla ci vuole la pala oppure bisogna iniettare dentro acqua per mettere in movimento tutto quello che fermo sotto e quindi si aumentano i volumi eccetera eccetera quindi questo è stato un primo vantaggio si diminuiscono anche le spese di agitatore se voi girate voi trovate degli agitatori enormi per tenere in movimento l'iguame perché sennò crea un problema però il problema ovviamente più forte era quello legato alle emissioni allora la questione delle emissioni è interessante perché noi parliamo di gas serra forse abbiamo in mente il buco dell'ozono o i concetti che vengono ripetuti però sono due tipologie diverse l'ammoniaca non è un gas serra è molto peggio è qualcosa che è abbastanza pesantina e si muove verso l'alto quando si muove verso l'alto si attacca velocemente a particelle e ricade queste particelle Dio vuole che siano piccolissime e che si chiamino PM2,5 PM10 che è la misura che passa in quella diaframma che c'è tra i bronchi e il sangue che c'è nei polmoni quindi vuol dire che quelle piccole particelle vanno direttamente nel nostro sangue ecco che cominciamo a capire come avere un po' di ammonia che nel nostro sangue non sia una cosa molto piacevole quindi non è un gas serra è un pericolo diretto e se non fosse solo per quello è anche proprio la pesantezza dell'odore la pesantezza del stare in quelle zone lì che non è poca poi abbiamo ovviamente il metano metano che sappiamo che ha moltissimi effetti l'NO2 che è il parossido di ossigeno parossido di azoto scusate di azoto sì protossido di azoto sì è la CO2 è ovvio che questi sono numeri che ci fanno capire come spesso la contribuzione di queste enorme vasche che noi abbiamo proposto come una soluzione sia quasi sia quasi peggio una soluzione che 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 il problema perché in qualche modo si risolveva più facilmente ecco noi siamo siamo abbiamo cercato proprio di tornare a incentivare gli aspetti di autosoluzione naturali già presenti in natura che c'è il terreno diventa fertile se lo lasci in pace il l'etame diventa aumenta la sua quantità di azoto utilizzabile nel terreno se il suo processo è naturale e la stessa cosa succede qui e quindi questo è quello che abbiamo potuto misurare ovvio il mio interesse finale sono molto felice che non ci sia ammoniaca sono perché perché siamo stati costretti a mio nonno ha tirato su sette figlie di cui due sono andate all'università con 25 vacche quindi potevamo permetterci un allevamento diffuso oggi no oggi sono mille duemila e quindi è chiaro che concentriamo le cose e quei poveri disgraziati che stanno intorno a queste concentrazioni pagano parecchio sono molto contento di questa cosa però l'altro aspetto che devo osservare cosa me ne faccio di questa cosa la spando la distribuisco su superfici perché così non ce l'ho in casa no se io riesco a fare sembra una banalità a fargli fare quello che fa io tengo un beneficio economico enorme abbiamo visto prima tanto per ritornare a una storia vincente come nel giro di quattro anni abbiano eliminato la concimazione chimica che non è un atto ecologista è un atto economico per la prima principalmente è secondario chiunque di noi che conosce anche un minimo sa che qualsiasi concime è se volete usare un termine un sale forte che quando entra nel terreno disgrega più che unificare cioè non è che aiuti il terreno è un aiuto esclusivamente per la pianta qui invece parliamo di un'altra cosa parliamo di qualcosa che aumenta il capitale non solo gli interessi perché questa è sostanza organica perché trasformiamo quello che c'è lì dentro arriva come azoto chimico e nasce come azoto biologico questo vuol dire che arriva nel terreno è più facilmente agganciato parlo proprio di colla nel fatto che si unisca e rimane più a lungo e quindi parliamo di lenta cessione quindi c'è tutta una serie di fattori positivi che ha sempre avuto che sono la sua natura che riusciamo a fargli restituire quindi ripasso lo fa la vacca attraverso le feci quindi quale soluzione più semplice più determinante poi alla fine grazie come presentazione abbiamo finito avete anche voi sforato i tempi ma va bene no sto scherzando no perché importante è anche parlare perché che cosa stiamo facendo come rumizia innanzitutto voglio fare una premessa cioè noi stiamo cercando molte delle perdita di tempo che c'è stata fino adesso nel cercare di mettere la testa di come migliorare la sostenibilità delle nostre produzioni è nata dal fatto che non ne avevamo bisogno ma che comunque era stata inserita all'interno di una sorta di lotta ideologica no? di favorevoli e contrari quindi che sono vegani contro onnivori propriamente detti eccetera queste lotte ideologiche poi fermano la riflessione no? e quindi purtroppo la rete nel bene e nel male il nostro amico Facebook ha peggiorato un po' questa situazione che cosa stiamo facendo anche come ruminanza stiamo cercando sempre nel libero confronto di idee che è il nostro pay off anche di fare questa come abbiamo detto anche ieri queste due sostanzialmente liste una black list e una white list cioè dove ridistribuire tutti quelli che possono essere gli additivi le soluzioni alimentari le soluzioni strutturali da ciò che è additivi per esempio di comprovata efficacia da ciò che rimane un po' nell'ambiente emotivo allora che cosa voglio dire per inserire questi prodotti nelle due liste non è che lo facciamo perché chi è sponsor di ruminanza è nella white list e chi non è sponsor è nella black list lo facciamo alle domande quali sono allora questo additivo o questa soluzione quindi questo prodotto o questo processo è di comprovata efficacia perché perché ha subito c'è alle spalle una prova scientifica su una rivista indicizzata guardi docenti universitari che ringrazio qui presenti e quindi ha superato diciamo l'esame dei referi e quindi della pubblicabilità su una rivista indicizzata ha superato l'esame di prove di campo secondo livello questo sta permette diciamo già delle distribuzioni poi noi che apparteniamo alla comunità dei tecnici no alla comunità scientifica ci convince molto la plausibilità oggi voi ci avete in qualche modo condotti verso prove scientifiche non c'è il tempo per illustrarle ma anche nella plausibilità di un ragionamento altrimenti andiamo a dimostrare io faccio cadere il blocchetto muore un cinese e quindi dice faccio cadere il blocchetto se voglio ridurre la il numero di cinesi che stanno inquinando il pianeta sto scherzando ovviamente per dire di questo però c'è un aspetto fondamentale che non è marginale che è quello diciamo delle impressioni le prove empiriche perché voi non dimenticate mai che il più potente modello nutrizionale il CNCPS il Cornel Nate Protein Carbohidrati System che è il sistema è la modellizzazione della vacca da latte che quando inizieremo a usarla è lo strumento matematico che permette diciamo di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni animali ne abbiamo parlato anche ieri è basato su modelli empirici sono equazioni empiriche causa-effetto dose-risposta per non andare a complicare troppo la questione io approfitto diciamo della presenza di due allevatori due allevamenti scusate che in qualche modo possono testimoniare perché non ci creda a quello che hanno detto loro dubito ergo sum se effettivamente chi li compra e li paga lo fa perché gli è simpatica la coppia o perché ne trae un vantaggio io quindi nel mio cogito ergo sum chiederei ad Alessandra Gobalchini che è un'azienda nota di una famiglia nota del nostro settore che io non conosco conosco suo padre Alessandra ho avuto il piacere di conoscerla oggi perché sta buttando via questi soldi o li sta investendo questi soldi nell'acquistare questi prodotti Sop scusate la banalità ma siamo in una fiera sì beh buongiorno a tutti diciamo che io dico sempre che secondo me Sop è una filosofia una filosofia sia in stalla che in campo e i miei genitori quando hanno cominciato hanno preso l'attività di in mano l'attività di mio nonno materno nel 2001 hanno costruito un'azienda nuova e hanno iniziato fin da subito ad utilizzare i prodotti all'epoca non era ancora Sop aveva un altro nome ma loro credevano molto in quella che è la filosofia e il lavoro di Sop e devo dire che dopo anni noi siamo molto soddisfatti di questa scelta tant'è che oggi utilizziamo praticamente l'intera gamma di prodotti della Sop quindi a partire dalla vitellaia per tutto quello che è la filiera poi della produzione e anche in quello che è la campagna e io dico sempre non so dare ad oggi un riscontro scientifico del perché usiamo Sop ma sicuramente non ne faremo più a meno e lo notiamo in tante piccole cose e innanzitutto a partire dalla sanità generale della mandria che sicuramente in questi anni ci ha dato grandissime soddisfazioni abbiamo ridotto praticamente al minimo storico l'utilizzo di farmaci e devo ammettere anche che abbiamo un veterinario omeopata quindi abbiamo un po' fuso entrambe le cose ma fondamentalmente non ne abbiamo più bisogno perché comunque gli animali hanno una capacità di resistere ai problemi di superarli sicuramente molto maggiore rispetto a quello che era un tempo e di conseguenza il post parto che è una fase abbastanza delicata riescono a superarla in maniera diciamo egregia e anche adesso recentemente c'è stata una grossa influenza perché non è che gli animali che utilizzano i prodotti automaticamente non si ammalano più però nel momento in cui si ammalano hanno anche una capacità di uscirne molto più rapidamente e con molti meno danni insomma collaterali e abbiamo per questo motivo anche deciso di utilizzarlo nella vitellaia proprio perché abbiamo visto che comunque siamo riusciti a superare un intero inverno e un'intera estate senza utilizzare antibiotici negli animali con vitelli che sicuramente crescevano in maniera molto più vantaggiosa per noi e anche per loro stessi e poi noi diciamo che teniamo particolarmente alla linea femminile perché ovviamente i maschi li mandiamo via abbastanza in fretta ma le femmine intorno ai 20 giorni cominciano a mangiare a ruminare e questo fa sì che crescano in maniera molto più veloce e negli anni abbiamo visto che arrivano a partorire intorno circa ai 22-23 mesi delle primipare molto forti che hanno una grossa capacità di integrarsi poi nella mandria e di continuare diciamo la loro vita abbiamo animali molto longevi e questo è sicuramente dovuto a una ricerca e una selezione genetica ma è anche sicuramente dovuto a una sanità generale dell'ambiente abbiamo ridotto fortemente quello che è il problema delle dermatiti che secondo noi è fondamentale perché un animale che ha male ai piedi è un animale che non si muove non mangia non viene in calore e quindi automaticamente chiude il suo ciclo produttivo per qualcosa che può essere banale ma che secondo me è fondamentale al punto che siamo partiti qualche anno fa dove il nostro podologo faceva 20 animali 10 suole o 10 fasce adesso facciamo 20 animali e a volte anche nessuna suola quindi sono interventi di routine non più di intervento e diciamo che un insieme appunto di fattori ci fa credere molto nell'utilizzo di questo prodotto di questi prodotti perché poi noi utilizziamo quasi tutta la gamma ecco ripeto bisogna crederci veramente portare pazienza perché i risultati come hanno detto loro non li vedi dall'oggi al domani ma li vedi nel continuare nella cioè devi creare una resilienza insomma lo creano gli animali in stalla lo devi avere anche tu e devo dire che noi ad oggi continuiamo serenamente a utilizzare i prodotti e ci siamo resi conto che la spesa non è assolutamente un problema perché i risultati ritornano insomma molto velocemente Alessandra ti ringrazio sei stata abbastanza convincente quindi ho spostato l'asse verso la la white list non è ancora non hai la parola tu e il microfono sì è una gestione un po' dittatoriale se no sforiamo troppo i tempi però Facebook che ci guarda buongiorno Facebook e scusa scusa Alessandro un secondo solo posso sono indisciplinati i collaboratori volevo volevo dire solo una cosa la questione è che come sai quando si parla di benessere animale si arriva al immediatamente al rapporto con l'animale quello che ho cercato di dire quando si parla di campagna si parla al rapporto con la terra con la campagna io volevo spezzare una lancia perché il rapporto con gli animali è fondamentale e proprio questa cultura che hanno portato avanti da loro nonno e adesso fa tanto la differenza è un indisciplinare ascolta no due aneddoti velocissime Maurizio tu che sei il direttore devi intervenire allora due aneddoti velocissimi non gli avevo detto che lo dicevo uno sì uno no l'Alessandra un giorno eravamo a casa sua era ficcata in un in un alloggiamento di un vitello ha detto ma cosa ci fai lì dentro ho detto guarda lo sai che qualche tempo fa perché il prodotto dei vitelli l'ha utilizzato abbastanza recentemente qualche tempo fa io qui dentro per l'ammonia che non ci sarei stata la seconda cosa che gli ho chiesto è stata ma in tutto questo gran parlare di riduzione dei farmaci alla messa in asciutta mi dai un tuo numero di quanti animali tratti alla messa in asciutta ma soprattutto quanto tempo ci hai messo ha detto è dieci anni che io ci sto lavorando questo è il dato più importante però alla fine lei tratta due animali su dieci alla messa in asciutta quindi il dato più importante è che ci ha messo dieci ci sta lavorando non mi hai convinto più di quello che hai detto prima perché io voglio sentire adesso è difficile che voglio sentire adesso un'altra azienda di cui per pura casualità ho amicizia con i vostri rispettivi i genitori che è l'azienda Andena è un'azienda famosa una famiglia famosa quindi Lorenzo ma questi due signori stanno raccontando balle o che? no purtroppo no anzi fortunatamente no io colgo l'occasione intanto per ringraziare tutta la ditta SOP per la tecnologia che fornisce ai nostri allevamenti e anche l'entusiasmo che porta con queste pubblicazioni e questi dati che non è una cosa da sottovalutare come la mia collega Alessandra anch'io collaboro con SOP da quando è nata SOP quindi da circa 18 anni mi sono ritrovato quindi una realtà già trattata SOP quando ho iniziato a gestirla io in prima persona loro sia Gioacchino che Roberto che Alessandra sono stati molto esaustivi quindi non mi voglio dilungare più di tanto ad elencare i benefici però sono tutti reali e la cosa più importante è che sono molto costanti nel tempo in tutti questi anni di utilizzo quello che ho notato è che sono in continuo miglioramenti tutti i parametri sia quelli produttivi che quelli sanitari che quelli della campagna la campagna ho iniziato io da poco in prima persona appunto a fare delle prove con i prodotti agronomici e devo dire che sono eccezionali sono eccezionali perché mi hanno permesso di aggerare la concimazione chimica mi hanno fatto sia aumentare la resa ma questo passa in secondo piano perché la resa è un parametro un po' fine a se stesso io la voglio valutare in base alla qualità del foraggio che mi esce quindi anche sulla risposta latte e sanità della mandria e questa è una cosa fondamentale senza appunto considerare il discorso sostenibile al quale io tengo moltissimo tanto per dare un indice di quello che io ho visto negli ultimi cinque anni da quando siamo passati all'utilizzo del prodotto per via orale non solo quello ambientale abbiamo dimezzato le cellule somatiche del latte abbiamo ridotto di circa al 40% l'incidenza delle mastiti è aumentata la nostra resa produttiva delle vacche di circa il 15-18% i parametri qualitativi quindi grasso proteine sono rimasti pressoché costanti ma dato l'aumento produttivo di latte vuol dire che sono aumentati anch'essi e queste sono cose appunto fondamentali per darci comunque speranza e continuare con entusiasmo questo lavoro beh hai spostato ancora più l'asticella verso però a questo punto vorrei fare una raccomandazione a SOP investire nella ricerca ho conosciuto il vostro titolare qualche giorno fa insomma l'investimento nella ricerca è l'investimento nel futuro se non c'è ricerca non c'è futuro questo è evidente in questo momento in cui siamo obbligati all'accelerazione e chi accelera sicuramente verrà premiato dai consumatori e a volte e metto gli alburi anche tra i consumatori improvviamente c'è quindi non vi invito a questo ma e chiudo con una battuta abbiamo visto ieri in questo seminario di ASPA quindi è stata fatta una puntualizzazione di alto livello su quello che è effettivamente il contributo che l'allevamento della vacca da dà alla produzione di gas abbiamo poco affrontato perché non c'è il tempo in workshop in una fiera di quanto l'agricoltura sottrae CO2 o comunque quelli che entrano nel novero della CO2 equivalente quindi nega serra però una cosa è uscita molto chiara sia dalle presentazioni che ha fatto ASPA ma anche da quello che è la bibliografia che oggi questo sistema di gestione dei linguami cioè lo stoccaggio di linguami in vasconi per un lungo periodo ha una contribuisce per circa il 50% della produzione di gas serra per cui nel doversi dare delle priorità perché il mondo lo salveremo il mare si dice fatto di gocce di piccole cose tutto insieme io vi invito ad accelerare molto questo aspetto oltre all'aspetto della sanità animale delle belle cose dette proprio nella gestione dei vasconi dei linguami perché è un problema secondo me perché lì c'è il 50% della soluzione cioè dell'impatto dell'allevamento dei bovini in senso generale di gas serra dobbiamo concludere perché Facebook che ci sta dando che saluto ovviamente con deferenza dobbiamo concludere io vi ringrazio di questo non sarà ovviamente questo lo auguro che è un inizio di un discorso che continueremo a fare sia nel digitale che nell'analogico grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti